Buon pomeriggio TripTV, le notizie di oggi sempre in collaborazione con la redazione di 0766 News e ovviamente la notizia più importante di questi momenti è la zona logistica semplificata. La soddisfazione del Presidente della Torità Portuale di Maio ma la soddisfazione anche dei commercianti perché significa che significa la ZLS, un'altra siga che ci ritornerà sempre nella mente. I tre porti Civitecchia, Fiumicino, Gaeta, le loro aree retroportuali rappresentano dei più importanti strumenti normativi per l'attrazione di nuovi investimenti a favore dei porti del loro territorio. L'adozione della delibera regionale quindi, precisa al Presidente Di Maio, si è anche dato un concreto riscontro al lavoro avviato da questa autorità di sistema nel marzo 2018 nell'ambito dell'organismo di partenariato delle risorse mare con la costituzione di un gruppo di lavoro avente il compito di approfondire i contenuti e i settori di attività della futura ZLS in vista di una proposta da presentare alla Regione Lazio. E quindi queste sono le... quello che ci dice il Presidente della Torità Portuale. In pratica che significa? Non è una zona franca, non è che ci sia chissà che, però intanto ci possono essere delle agevolazioni e delle semplificazioni che possono attirare degli investitori, dei capitali a favore di queste tre zone, di questi tre sistemi portuali integrati nell'autorità di medio terreno, come si chiama, di sistema portuale. E quindi questa è la situazione in pratica. In pratica uno sviluppo per l'intera filiera portuale e logistica, quindi noi sappiamo quanti problemi ha il nostro interporto, che si chiama così proprio perché dovrebbe servire a dare un discorso di lavoro al porto, e invece per il momento questa cosa non c'è. Tant'è vero che è favorevole anche la CNA, un bel gioco di squadra, quello tra Regione e Autorità Portuale, e quindi è un gol prezioso per il futuro del nostro territorio. Questa è la soddisfazione espressa dal Presidente della CNA di Civitecchi, Alessio Gismondi, e poi altre persone si sono integrate. Chi invece non è molto soddisfatta e continua a dire che ci sono cose che non sono state fatte è la rappresentante del Codacons di Civitecchia, Sabrina De Paulis, che in merito alla nuova farmacia, che ricordiamo sarà ufficialmente aperta, ma è già aperta da un po', ha fatto anche già il turno festivo, il 5 novembre sarà inaugurata ufficialmente, dice, CSP, che è quella che la gestisce, non ha pubblicato alcun avviso come previsto per le pubbliche amministrazioni e le loro partecipate, per la ricerca di un locale dove trasferire la farmacia. Quindi prega, dice, manca questo, quindi e ricontinuiamo. E poi la farmacia, manca ancora la rampa, ma di su questo già il Sindaco ha precisato, ma questo lo sappiamo anche noi nel nostro piccolo, che la rampa sarà fatta, ma non è che la fa al comune, la fa al proprietario del locale. Detto questo, la nuova farmacia sembra che ha incrementato del 300% l'utile, quindi è un discorso da verificare, e come sempre voi sapete che noi lo faremo carta alla mano, cioè scontrini alla mano, andremo a capire dove, perché, e soprattutto se tutta questa farmacia fa un utile, se è dovuta al momento che tutta civilecchia sta male, perché ci sarà l'influenza, oppure è dovuta a incassi mancati in altre farmacie. Questo però a noi ci riguarda poco, sembra che questo settore che è in perdita, è stato liquidato, sta in liquidazione, e lo stesso amministratore, il Deleva, ha annunciato che ci sarà una nuova farmacia comunale, e quindi io vorrei capire, ma c'è stato, c'è fatto o c'è siete, c'è nel senso, se funzionano, date gli sfogo a farle funzionare, se non funzionano, come dite voi, bisogna poi mettere in liquidazione e darle via, datele via, cioè io però, ripeto, solo a Civitavecchia delle farmacie comunali sono andate in fallimento, nelle altre parti questa cosa non si è mai vista, poi la proroga dell'ordinanza sui scali di contene, apertenza CFFT, l'autorità attende il parere del TAR, quindi rimane tutto fermo, e ovviamente c'è, stava oggi, c'è oggi pomeriggio, quindi lo vedremo domani il risultato di questa situazione. Poi ricordiamo che sempre oggi pomeriggio, omette stiamo andando in onda, è in gara per il decimo giorno, Marco Lodaddio ai mondiali di Doha, della ginnastica, e la ginnastica di Frascati, parte con il sesto risultato tra gli otto partecipanti, ovviamente sulla carta Petronio e Sezzanetti, sono i due favoriti, ma per quanto riguarda il bronzo, i giochi sono aperti, e Lodaddio dal sesto posto vorrebbe almeno salire in terza posizione. Poi, la pallavolo a Cardo lascia la Sartorelli-Asp, mentre nella pallannuoto ci sarà probabilmente il torneo amichevole SNC-Roma-Vallia e 2X, perché ancora non si sanno i nomi delle altre due squadre, tra il 10 e l'11 di novembre, mentre la notizia è fresca fresca, ancora non la sa nessuno, ma a noi ci è arrivato già il calendario, la SNC inizierà il 24 di novembre in quel di Ancona, poi nei prossimi giorni andremo a vedere le varie sfaccettature del calendario. Esordio in casa, quindi di conseguenza, sabato 1 dicembre. Sull'orario ancora non si sanno, perché si devono ancora mettere d'accordo, però già è tanto che a tre settimane dall'inizio del campionato sappiamo dove si gioca, quando più o meno è il sabato, sull'orario ancora ci sono tanti dubbi e tante incertezze. Quindi abbiamo detto un po' tutto, rimane l'unitima cosa, ricordatevi che stasera è la notte di Halloween e c'è un party per la notte delle streghe, ovviamente una super iniziativa che non viene chiaramente fatta a Cività, ma viene fatta a Tarquinia, grazie all'iniziativa di alcune società sportive della cittadina etrusca. Il party per la notte delle streghe nasce da Atletica 90 a Tarquinia, che ha chiesto la cooperazione del calcio e della pallavolo, così si preparano tutti i ragazzi, si preparano a festeggiare tutti quanti insieme, tutto si svolgerà nel pomeriggio presso il campo d'Atletica Franco Guidozzi, quindi questa è la situazione per quanto riguarda Halloween, abbiamo già visto in giro ragazzi con il famoso dilemma se è il dolcetto o lo scherzetto, a chi non gli va ad essere disturbato, statevene a casa a guardare qualche cosa, noi possiamo consigliarvi di guardarvi sul web la nostra iniziativa sul basket femminile, che è Baschettiamo, dura un'ora e un quarto, per cui vi tiene abbastanza impegnati. Grazie, a domani.